Buongiorno ragazze, questa è la nail art che vi propongo oggi, è l'art molto semplice da fare, molto luminosa, carina, tutta rosa, eccola qui, spero che vi piaccia, vi lascio ai prodotti e al tutorial, un bacio grande, ciao! Come base per proteggere l'unghia ho utilizzato della Laila il numero 69, è uno smalto trasparente, per la French ho utilizzato della Kiko il numero 376, per le linee oblique ho utilizzato della Essence il nail art tip painter, per le decorazioni ho utilizzato degli strass rosati da questa ruota, come top coat ho utilizzato il solito sigillante della Essence. Allora, io ho già applicato la mia base trasparente e due passate dello smalto rosa della Kiko, di cui ho fatto una French, ora prendiamo uno smalto bianco con questo tipo di pennello, e andiamo a creare delle piccole linee diagonali su tutte le French. Grazie a tutti! Ora lasciate che lo smalto si asciughi, poi fate una seconda passata del bianco. Dopo che lo smalto si è asciugato, prendiamo dello smalto trasparente, ne applichiamo un po' qui al centro e in alto, su tutte le unghie, e prendiamo degli strass rosa da applicarci sopra. Ora aspettiamo che questo strato si asciughi. Ragazze, questa è l'anel art completata, io ho già applicato uno strato del mio sigillante della Essence, eccola qui. Spero che vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima, un bacio grande, ciao! 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 Ciao!